Io da questa esperienza mi aspetto di arricchirmi professionalmente con questa nuova energia nell'evoluzione di queste nuove forme e colori in maniera tale da poter condividere con il mio mondo, con i miei clienti, con le persone che mi circondano. Io sono un sognatore, sì, è chiaro, sono qui, me la gioco e va bene, quindi le carte non lo so, io sono un testardo, quindi sicuramente farò di tutto per giocare. E' andata credo bene, abbiamo stravolto un po' l'immagine della mia modella, ne abbiamo dato carattere, credo sia piaciuto, chiaro, una sua idea di bellezza, a me piaceva moltissimo, a me piaceva talmente tanto che insomma mi ha proprio, mi ha reso felice. Insomma, l'emozione è secondo me quello che un po' ci porta adesso all'avere come sensazione, adesso sono un po' emozionato, sono di fronte alla camera, non sono abituato e quindi questa è una bella emozione per me. Professionalmente mi ha dato un sacco di manzaro, ma questo sacco me l'ha dato Maria Grenzi, perché è una grande professionista e credo che, insomma, mi ha fatto veramente molto piacere di incontrarla, sono incantato, anche affascinato dalla sua cultura professionale a me, quindi veramente grande carattere e grandi capelli, ottimo stile, quindi lasciare il bianco è una soluzione vincente, perché ci sono altre regole che lei tiene perfettamente, e io come ragazza siamo veramente in gamba, mi piace molto, poi insomma il contesto, nuovi colleghi, è molto bello, insomma, tutto molto bello, questa bellissima nave, insomma, questo è tutto quello che sento di dirvi adesso. Beh, diciamo, funziona.